È passato poco meno di un anno da quel tragico mercoledì 8 luglio e da quel violentissimo tornado costato una vita e la devastazione dell'intera riviera del Brenta. Da allora tanto resta ancora da fare, ma tanto è già stato fatto, come è accaduto a Cazzago. Siamo riusciti finalmente ad erogare i contributi dell'erogazione liberale dei cittadini. Noi abbiamo, diversamente dagli altri comuni, erogato i contributi facendo anche riferimento all'ISEE, quindi l'indicatore economico. Abbiamo fatto un rapporto tra i danni subiti e l'indicatore economico del nucleo familiare. Accanto agli aiuti ai privati, l'amministrazione di Cazzago sta lavorando per rimettere in ordine anche le aree pubbliche devastate dal tornado. Abbiamo da poco approvato il bilancio comunale e i progetti approvati per la risistemazione di tutta la viabilità, i marciapiedi e i viari alberati che sono stati distrutti. Ora stiamo aspettando che la città metropolitana faccia il bando per affidare i lavori. Noi speriamo entro l'estate di riuscire ad affidare i lavori, a fare i lavori per ripristinare anche lo stato di fatto che c'era a Cazzago prima del tornado. In attesa di dare avvio ai lavori, Cazzago riparte dai suoi commercianti che il prossimo sabato saranno protagonisti della Mille e una Notte. Musica, giochi per i più piccoli, sport, moda e motori e tanto altro per un evento da non perdere assolutamente. È una notte che dimostra proprio che i nostri commercianti sono sempre pronti, sono sempre in prima linea e io non finirò mai di dirlo. Danno garanzia a tutti, in questo caso danno anche una garanzia di divertimento attraverso la loro professione. E al fianco dei commercianti di Cazzago scende in campo anche la Confcommercio della Riviera del Brenta. Per noi è un segno di orgoglio essergli vicini e affiancarli anche in questo momento di festa, non solo quando ne hanno bisogno ma anche proprio per condividere la gioia della loro professione messa a disposizione dei cittadini. Soprattutto dopo un evento così difficile, così duro, così improvviso e mai successo.